C'è stato il problema forse in cui sono stato molto critico nell'interpretazione terapeutica di un'artrite reattiva. Ecco che vorrei, nonostante il tentativo che ho già fatto di spiegarla, vorrei cercare di definirla meglio nella forma più semplice che mi riuscirà. Qual è? Ora, l'articolazione, qualsiasi articolazione, è protetta da una cartilagine che ne permette il movimento senza attrito perché è più elastica e distribuise l'elasticità all'osso sottostante progressivamente, tenuta insieme da una capsula la quale si inserisce sull'osso e poi protetta nell'interno da una struttura che noi chiamiamo sinovia che non è vascolarizzata, è formata da due tipi di cellule e quindi volendo la struttura base che è l'organo dell'apparato locomotore è formato da la cartilagine, la capsula che si inserisce, l'entese e la sinovia. Questo però sono solo le articolazioni periferiche. Le articolazioni centrali, la colonna, manca completamente, dico, manca completamente di sinovia, eccetera, la sacroiliaca nel tratto anteriore. In quel caso io avrò la cartilagine che in questo caso è il disco intervertebrale, ho l'osso e il legamento che passa e tene insieme oppure i legamenti intersomatici e interapofisari, ossia i processi trasversi. In questo caso se io ho un'artrite reumatoide che interessa prevalentemente la sinovia non potrò avere un interessamento della colonna. Inoltre se io ho un interessamento della capsula, siccome è prevalentemente a livello delle articolazioni periferiche, non potrò averlo a livello della colonna che sono brevi i legamenti. Tanto è vero che l'artrite, che vuol dire infiammazione delle articolazioni, nel reumatismo articolare acuto interessa la capsula e non dà danni articolari nel modo più assoluto, le artriti reattive interessano le entesi e possono dare a livello della colonna, oltre il dolore, calcificazioni e in questo caso non abbiamo solo l'artrite ma abbiamo la spondiloartrite che vuol dire associazione del coinvolgimento periferico e assiale, ma lo può fare perché l'entese c'è sia nelle articolazioni periferiche che assiali. Se parlo di artrite reumatoide interessa la sinovia e se parlo di artrosi interessa tutte le articolazioni perché la cartilagine c'è in tutte le articolazioni. Ora, fatta questa premessa, noi abbiamo una predisposizione e una causa. Le artriti reattive sono entesopatie periferiche. Se ci interessa anche la colonna si chiamano spondiloartrite. Possono essere o no associate alla psoriasi che dà l'artrite psoriasica e la spondiloartrite psoriasica, allegata all'HLA B27, mentre l'artrite reumatoide che è associata alla sinovia abbiamo l'HLA DR1 o 4. Quindi questo è importante, mentre il reumatismo articolare acuto quasi mai è regolato da HLA e abbiamo visto che interessa la capsula.